Per gli appassionati del gioco dell'otto sono tre i numeri dell'agenda politica da tenere a mente, un terno secco 12, 14 e 20. In coincidenza con queste date, tutte nella seconda decina di febbraio si terranno altrettanti appuntamenti su temi di peso rispetto ai quali ferve il dibattito politico, sanità e autonomia differenziata. Ma andiamo per gradi. Il giorno 12 febbraio, davanti alla quarta commissione consigliare presieduta da Nicola Cavaliere, si presenteranno i due commissari alla sanità Marco Bonamico e il suo vice Ulisse Di Giacomo per illustrare i contenuti del piano operativo sanitario 2023-2025. Il documento aperto alle osservazioni sino a metà febbraio verrà spiegato nelle finalità e nelle dinamiche ai componenti l'organo consigliare chiamato ad occuparsi dei servizi sociali comparto all'interno del quale è ricompresa anche la sanità. Toccherà poi ai componenti la commissione, che oltre a Cavaliere sono Cofelice, Greco, Sabbusco, Degidio e Salvatore, spiegare ai colleghi d'aula l'ordito e la trama del disegno sanitario composto da Bonamico e Di Giacomo. Questo avverrà, ed è il secondo numero da segnare, il 14 febbraio, giorno dedicato agli innamorati ma che verosimilmente in consiglio regionale non sarà dedicato ai sospiri, ai baci, alle carezze. Al contrario, nella seduta monotematica c'è da attendersi fuochi d'artificio e scintille tra maggioranza e opposizione. Altra giornata di botti, questo il terzo numero, sarà quella del 20 febbraio, data fissata per un consiglio monotematico dedicato al tema dell'autonomia differenziata. Opposizioni sugli scudi che, per l'Irami, hanno mutuato sul piano locale le barricate nazionali e maggioranza blindata invece su una riforma, le cui incognite potranno essere superate solo al momento della definizione dei livelli essenziali di prestazioni, cosa che avverrà tra due anni dopo una contrattazione dello Stato centrale con ogni singola regione. Sarà interessante capire quale sarà la delegazione del Molise e come sarà composta che andrà a Roma al tavolo delle trattative. In attesa di saperlo, l'unica certezza restano i numeri 12, 14 e 20. Questi gli appuntamenti prossimi della politica e per gli amanti dell'otto una terna secca da giocare su una ruota a piacere. Grazie. Grazie. Grazie.